Allora, proprio oggi ho pagato 20€ di dogana per un ordine che mi è arrivato, solamente che l'ordine non sono riuscito a capire che ordine era, cioè nel senso, ho fatto questo ordine, in teoria, non so ancora se è il mio o no, quindi adesso lo apro e vedo, però non ho proprio idea di cosa possa essere, a sentire dal peso credo di sapere cos'è, però non sono sicuro al 100%, quindi adesso vediamo subito se c'è l'interno. Allora, come potete notare, magliettina, pigiamino, di Natale ragazzi, uno dei regali di Natale che non mi sono fatto da solo, capita anche che non me lo posso essere fatto da solo, però è carino, faccio gli scherzi. Allora, appunto per rimanere in tema Natale, dato che il periodo di Natale ragazzi vi ho fatto vedere quell'ordine che mi era arrivato, in cui c'erano all'interno i mazzi, strutture deck di Kaiba Yugi, con il mago nero e il drago bianco occhi blu, all'interno, quelli i primi fatti, i primi due usciti assoluto. E quindi, adesso capirete il perché vi ho introdotto questa cosa, sempre se riesco ad aprire la confezione, perché, come sapete, ho sempre dei problemi, quindi, cioè, i problemi in generale ce li ho sempre, però dico, ho dei problemi con l'apertura di questa confezione, quindi potremmo riuscire entro 5 minuti, quindi voi vi stufate e schippate. Ma, tranquilli, ora ce la faccio. Allora, perché mettono lo scocci in ogni direzione possibile, immaginabile, quindi non riesco ad aprire. Allora, ce l'abbiamo fatta. One, two, three, four. Oh, introduzione giusta. Allora, ragazzi, guardate che spettacolo. Qui non c'è rimasto niente, posso richiudere. Allora, come potrete notare, sono due oggetti, ragazzi, ora vedrete cosa è. Guardate che spettacolo, questo è rovinato, adesso io ho bestemmi. No, scherzo, non si è bestemmi perché è natale, però si è bestemmi appena ho finito il video. Eccolo qua, one, two. E abbiamo, attenzione, un mazzo introduttivo, mi avvicino, di Joy e Pegasus, ragazzi. Guardate che spettacolo, prima edizione in italiano, solamente che questo qua di Joy è arrivato tutto rovinato, quindi adesso scriverò subito al venditore, perché io l'ho pagato in condizioni nuove, invece questo è arrivato tutto rotto, quindi non ci siamo. Non va bene proprio, è questo uguale. Guardate come è ridotto, non ci siamo. Io l'ho pagato per intero e lo voglio intero, quindi adesso vedremo il da farsi. E comunque niente, era giusto per rimanere in tema, sì, Jayden, in tema Yugi e Kaiba. E niente, per oggi è tutto, ragazzi, questo video durava pochissimo, c'è solo 6 due cose, solamente che non sapevo che ordine fosse, quindi ho dovuto aprirlo subito. Niente, niente. Al prossimo video. Lei si tratterebbe scegliere, è tutto volo, prego. Ah, questo stronzo mi ha da dirotti. Grazie. 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 Grazie.